Sul volo di ritorno da Cracovia per la giornata mondiale della gioventù e la visita alla Polonia, Papa Francesco ha incontrato i giornalisti e risposto ad alcune domande e così è tornato a commentare il barbara assassino del parroco francese in chiesa durante la messa compiuto da due terroristi legati all'autoproclamato stato islamico. Non si può dire e credo che non sia vero e non sia giusto che l'islam sia terrorista, ha detto. Se io parlo di violenza islamica devo parlare di violenza cattolica e no, non gli islamici tutti sono violenti, non i cattolici sono violenti tutti, c'è come la Macedonia, c'è di tutto, ci sono violenti di queste religioni. L'ISIS è un gruppetto fondamentalista, ha spiegato il pontefice. Anche noi ne abbiamo, ma io ho avuto un lungo dialogo con il grande imam dell'università Al-Azhar e so che loro cercano la pace, l'incontro. E i musulmani che in Africa passano per la Porta Santa pregano l'altare della Madonna, vogliono fare il giubileo. Il terrorismo, ha aggiunto il Papa, cresce quando non c'è un'altra opzione, quando al centro dell'economia mondiale c'è il dio denaro e non la persona. Questo è già il primo terrorismo, il terrorismo di base contro tutta l'umanità. Francesco ha poi risposto ad una domanda sulla situazione in Turchia dopo il golpe, che ancora non è chiara, non parlo perché non sono sicuro, perché quando ho dovuto dire qualcosa che non piaceva alla Turchia, ma della quale ero sicuro, l'ho detta. Altre domande hanno toccato le nuove accuse in Australia contro il Cardinal Pell, il dialogo per la stabilizzazione del Venezuela e naturalmente il suo viaggio in Polonia. Il pontefice ha parlato dell'entusiasmo e della bontà dei polacchi e dell'importanza di dialogare con i giovani inquieti e creativi e imparare anche il loro linguaggio, perché noi dobbiamo imparare da loro e loro da noi. Infine Francesco ha ringraziato e festeggiato con una torta padre Federico Lombardi, che dal primo agosto lascia la direzione della Sala Stampa Vaticana e quindi era il suo ultimo viaggio sul volo papale, e Mauro De Oratis, il gendarme incaricato dei bagagli dei voli, che va in pensione dopo 37 anni di viaggi.